Massimo e Candela hanno un problema simile. Lui pensa che la vita possa stare tutta dentro a un trolley. Pensa di poterci mettere solo quello che vuole e di poterla portare dove gli pare. Massimo, che tu piedi non è come la maletta, eh? Che la puoi llenare con lo che ti dà la gana e che è fuori. Io ti da bene, non ti apetezca. So che sei tanto preoccupato per i soldi, per la tua azienda e puoi avere successo, però credo che alla fine avresti solo bisogno di sentirti un po' più libero. Allora, lo sai che faccio per sentirmi libero? Mi metto a ballare. Candela invece pensa che la vita debba essere come il suo zainetto. È per questo che io sono qui. Perché tu hai bisogno di uno come me. È che la tua vita è come il tuo zaino, troppo pesante e troppo incasinata.